Musica Cari amici buonasera siamo in diretta a Isole Sparse ed al production Renato De Paoli con Emi Fai sta per avere inizio il meeting concerto oggi è il 16 ottobre 2010 siamo a Zerea chi vuole vedere il sito www.doremifai.com cari amici in diretta della fabbrica live branding e conference e tutto ciò che fa musica che siete tutti aspettati è in corso in questo momento e durerà fino a domani domenica 17 ottobre a Zerea via libertà 57 ci sta esibendo il primo corpo dei giovani emergenti qui dal paraboloide vi parla Renato De Paoli grazie 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 grazie